le persone nate domani hanno il sole posto sul quarto grado del segno della riete vediamo una persona che sorpresa da una tempesta in montagna si arrampica con energia e forza lungo le rocce grado di pericolo ma con successo finale forza di carattere sarà trovata la propria vocazione malgrado le difficoltà iniziali apparentemente insormontabili ariete non prendete decisioni affrettate e soprattutto non lasciatevi influenzare toro anche se non sarà facile cercate di diluire i vostri impegni oppure rischierete un esaurimento gemelli reagirete senza esitare a una possibile solitudine desiderio intenso di incontri cancro gli incontri mondani o di società vi mettono sempre un poco a disagio leone riceverete degli inviti che vi interesseranno molto cercate solo di non stancarvi troppo vergine cercherete di distrarvi frequentando nuove compagnie per non pensare a un certo problema bilancio compirete un'azione per il solo spirito di contraddizione siate prudenti nervosismo scorpione ci sentiremo desiderosi di contanti per cui faremo o riceveremo degli inviti sagittario la momentanea impossibilità di trovare un'intesa vi renderà più disponibili a incontri nuovi capricorno gli incontri mondani esclusivamente formali sono contrari alla vostra natura acquario gli incontri di domani saranno caratterizzati da un vostro successo personale pesci cercate di non essere generosi oltre la misura dei vostri mezzi pesci cercate di non essere generosi oltre la misura dei vostri mezzi